Ciao a tutti amici di Tech e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse io sono Luca Ansevini e in questa nuova puntata, chiamiamola così, andremo a proseguire quella che è la mini rubrica avviata ad Andrea dove vi mostreremo tutto l'armamentario, il nostro zaino tecnologico, se così possiamo chiamarlo, che ci accompagnerà durante il Mobile World Congress a Barcellona. Io non sono mai stato a una fiera di queste dimensioni, pertanto ho cercato di andare a comporre, di andare a creare uno zaino che contenesse dispositivi e accessori, diciamo, essenziali, importanti, senza andare a introdurre nulla di superfluo o andare insomma a creare copie su copie su copie di accessori che per esempio portano già Andrea o Nicolas oppure Claudio. Detto questo non perdiamo ulteriore tempo e andiamo subito, dopo la sigla, a vedere il mio zaino per il Mobile World Congress. Partiamo ovviamente con quello che è lo zaino. Ne ho provati tanti, ne ho comprati tanti da Amazon, tanti li ho resi perché non mi convincevano a livello di spazio interno, di tasche e di quant'altro e la mia scelta finale è ricaduta su questo zaino di iCozier che non è una parolaccia ma è uno zaino che mi è piaciuto moltissimo per tutta una serie di tasche interne, di dotazioni, mi è piaciuto molto anche come solidità dei materiali, mi sembra molto bello al tatto, resistente, comodo da portare in spalla grazie alle imbottiture sul retro, è dotato come vedete di tutta, vediamo se riusciamo a tirarlo su, da tutta una serie di tasche, per esempio questa posteriore, due tasche qua e una utilissima porta USB su questo lato che mi consentirà nel momento in cui sarò a secco di batteria e penso che succederà molto spesso di attaccare un cavetto USB, attaccare l'altra estremità allo smartphone, al tablet o al dispositivo insomma adeguato e di poterlo ricaricare senza dover stare ad almeggiare troppo all'interno dello zaino. Come vi ho detto prima è antifurto, quindi diciamo che è difficile da aprire per un malintenzionato grazie come vedete alle cerniere nascoste diciamo da questa da questo piccolo strapino in velcro e l'apertura avviene sulla parte diciamo posteriore, quindi insomma presumo mi accorgerò se qualche malintenzionato cercherà di aprirmelo, quantomeno non troverà dove potermelo aprire, cercherà di tagliarmelo, dovrebbe essere anche antitaglio e antipioggia, speriamo di non dovermene accorgere troppo tardi in fiera. Adesso dopo questa piccola presentazione dello zaino andiamo ad aprirlo e vedere che cosa c'è all'interno. Apriamo il nostro zaino, eccolo qua, tasca frontale e tasca posteriore, nella tasca frontale chiaramente andremo ad aprirla dopo che è piena di roba, piena di piccoli accessori, insomma tutto quello che mi può servire, tasca posteriore che consente fondamentalmente di andare ad allocare come potete vedere dei laptop, dispositivi computer portatili fino a 15 pollici, oppure per esempio questa tasca molto più sottile che ci consente come potete vedere di allocare ad esempio un tablet. Non porterò reflex, non porterò fotocamere perché insomma reputo che il mio iPhone X che non posso mostrarvi per motivi di registrazione del video purtroppo perché l'altra mia fotocamera ha esalato l'ultimo respiro. Il mio iPhone X penso farà tutto quello di cui avrò bisogno egregiamente, ovviamente lo occupierò al mio fedelissimo Apple Watch Serie 1 che funziona ancora benissimo e mi ci trovo molto bene e mi consentirà insomma in mezzo al trambusto di avere sempre sott'occhio mail, notifiche, tutto quello diciamo di importante. Proseguiamo con come vi dicevo tablet, nel mio caso un iPad Air 2, 800.000 notifiche chiaramente, un iPad Air 2 che funziona per il mio utilizzo ancora benissimo dotato di una semplicissima cover di terze parti, non ho mai avuto grosse pretese, non utilizzerò tastiere esterne, io andrò con quella virtuale perché mi sono sempre trovato, devo dire molto bene, ho sempre trovato il dispositivo bello, compatto e già fruibile così e nella tasca posteriore troviamo il mio laptop che in questo caso è un MacBook Pro da 13 pollici con Touch Bar versione 2017. È la versione base che per me, per il mio utilizzo va benissimo, ovviamente adesso si accenderà, molto compatto, molto comodo, come ho avviato al problemino diciamo delle porte, delle sole porte di USB di tipo C. Ho avviato con questo case, guardate che rimettiamo dentro il PC, con questo case che è in pelle sintetica, molto bello, al di là purtroppo dell'apertura che è magnetica, infatti non mi fido a portarlo in giro da solo, ma sempre diciamo un po' con effetto matrioscopio all'interno di un'altra borsa, ed è dotato come vedete di tutte quelle porte che mi possono servire durante la fiera, dalla Gigabit Ethernet, HDMI in uscita, due USB di tipo C, una per la ricarica anche del Mac, che mi consente quindi di collegare l'hub al Mac attraverso questa porta posteriore da cui, scusatemi, alla quale collegherò un cavetto che andrà a inserirsi nel portatile e mi consentirà di ricaricarlo senza sprecare un'ulteriore porta. Tre porte USB 3.0 e adattatore per microSD e SD standard. Leviamo anche l'iPad, proseguiamo. Tasca che si può aprire in due modi, in questo modo o in questo modo, chiaramente qua poi ci saranno tutti gli accessori, la parte più corposa, questa tasca ho deciso di adibirla a contenitore di cavi che vabbè adesso sono buttati chiaramente un po' alla rinfusa, come vedete anche qualche alimentatore di dispositivi ad esempio secondario che ricaricherò comunque meno, tra cui per esempio quello del Mac o comunque quello della mia console da intrattenimento che vedrete dopo. Proseguiamo e andiamo a vedere la tasca diciamo più grande interna con questa prima tasca dove ad esempio io ho inserito questo comodissimo adattatore di corrente di raw power, questo alimentatore che è dotato di sei porte, porte chiamate come vedete iSmart, ovvero porte che adattano l'erogazione di corrente in base al dispositivo che andremo a collegare e una porta quick charge, devo dire molto veloce, molto prestante. Mettiamolo qua, proseguiamo, come funzionerà la porta usb esterna? Chiaramente grazie ai power bank che io ho messo qua all'interno e collegato con questo cavetto, due power bank perché corrente ne servirà tanta tanta tantissima e questo è un 12.000 mAh come detto di O2, il modello si chiama prism e questo ok un pochettino più compatto insomma per le ricariche veloci ma penso prevalentemente poi di fare uso di questo. Stacchiamolo, facciamo così almeno li liberiamo un pochettino di spazio, proseguiamo con quello che invece è la parte di intrattenimento. Ovviamente anche chiavette usb varie, adesso le ho perse da qualche parte, sono qua nella taschina interna, chiavette usb varie e vediamo invece un po' la parte di intrattenimento perché è chiaro che insomma si spera ci saranno anche momenti per godere di un attimino di relax e allora il relax sarà composto dalle mie cuffie che poi sono le stesse anche per esempio di Andrea, le Beats Studio 3 Wireless, cuffie molto belle dotate di cancellazione attiva dei rumori di fondo, grandissima autonomia, chip W1 quindi molto amiche dei prodotti Apple, è possibile come immagino già saprete di poter spostare la sorgente di riproduzione in maniera molto agevole e queste saranno le mie fide cuffie da viaggio barra da ascoltare musica anche nei tempi morti. Siccome la musica per me è assolutamente di casa mi sono comunque deciso a portare dietro anche questa Bose Soundlink Mini. Questa è la versione diciamo prima versione, versione 1.0, esistono già versioni successive che ovviamente offrono caratteristiche migliori ma devo dire che per il mio tipo di utilizzo questa cassa bluetooth è molto comoda. Mi piace soprattutto perché ha dei bei bassi, molto ben bilanciata, non distorce eccessivamente la qualità della musica ed è comoda da portare in giro e anche soprattutto una buona autonomia. Ultimo ma non ultimo, vediamo un po', adesso qua tocco un attimino per vedere se ho esaurito il mio contenuto, ultima ma non ultima la mia fida Nintendo Switch perché ovviamente anche durante il viaggio i tempi morti ci saranno, allora Nintendo Switch per farsi una partitina, tra l'altro ho acquistato questa bellissima cover devo dire che consente di alloggiare anche come vedete qualche cassetta eccola qua, qua all'interno qualche cartuccia di gioco e consente anche di utilizzare un po' questa parte come piedistallo quindi se volete giocare con gli amici appoggiate qua la Switch, sganciate e potete giocare. E siamo arrivati in fondo al mio zaino, non c'è più niente, vi ho fatto vedere tutto quello che mi porterò dietro, come detto cercherò di viaggiare un pochettino più leggero o evitare di avere 860 milioni di cose, se questo video vi è piaciuto vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale e a mettere un bel mi piace a questo video, vi ricordo che tutti gli accessori che avete visto saranno quasi tutti, scusatemi perché ad esempio la dock case, la cover per il Mac non la trovate su Amazon insomma solo sul sito del produttore, ma tutti gli altri accessori sono tranquillamente acquistabili su Amazon e vi lasciamo in descrizione a questo video tutti i link per poterli acquistare. Detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi do appuntamento al prossimo video e al Mobile World Congress. Ciao!